Che rapporto c'è tra i sistemi solari e gli atomi? Una persona con se stessa? L'universo con la Terra, la mente con la natura. Esploro il mondo che mi circonda, nello sforzo di raggiungere un significato più grande. Creo forme che raccontano storie con metafore e figure retoriche. La mia arte traduce leggi matematiche in poesia. La mia arte traduce leggi matematiche.